Amadori ha convocato otto dipendenti sportivi amatoriali pronti a mettersi alla prova e a migliorare sotto la guida di un coach d'eccezione, Massimiliano Rosolino. Amadori buongiorno! Buongiorno! Piacere mio, è ben arrivati! Il loro percorso di crescita sportiva e alimentare, inoltre, è stato seguito da Emanuele Gollinucci, preparatore atletico, e Iader Fabri, nutrizionista e divulgatore scientifico. In questi mesi gli amatori hanno ricevuto consigli alimentari e sportivi e, allenandosi duramente, sono riusciti a raggiungere i loro obiettivi. Ora sono finalmente pronti per la grande sorpresa che li aspetta. Andremo insieme a Roma! Siete contenti? Sì!